Giorgia e io siamo pronte per fare un'insalata super veloce di cerchi. Attenzione questa insalata riesce bene solo se preparata in velocità. Un cerchio grande, due cerchi medi, tre cerchi piccoli, un cerchio all'interno di un altro cerchio, con dentro un altro cerchio, un cerchio con dentro quattro puntini all'interno dell'altro cerchio. Ora dieci cerchi minuscoli. Scegli i cerchi più belli sul tuo piatto e disegna tutto intorno un altro cerchio. Dovremmo ripetere tutto passo per passo ma noi l'abbiamo fatta super veloce. Quindi adesso prendi i pastelli e colora piacere. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.